Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pastina risottata con il formaggino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono pastina di tipo stelline, formaggini, acqua, sale e parmigiano. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale l'acqua e la portiamo a ebollizione in 7 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo la pasta, il sale e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 7 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. 3 minuti prima del termine della cottura aggiungeremo i formaggini e il parmigiano. A questo punto fermiamo il bimbi e aggiungiamo i formaggini. una parte del parmigiano e proseguiamo la cottura sempre a velocità soft. la pasta è pronta, andiamo a impiattare. pastina risottata con il formaggino. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.